Eccoci di nuovo insieme, benvenuti sul canale. Oggi ripartiamo dalle matite colorate Calor. Ne ho già parlato un po' di tempo fa e in realtà avevo fatto l'unboxing appena erano arrivate perché 300 tutte insieme, come in questa scatola, non le avevo mai possedute. E oggi invece vorrei farvele vedere all'opera e dalla volta dell'unboxing qualcosa è cambiato, vale a dire la cartella colore, che è stata un'impresa, credetemi, epica. Anche perché fare una tabella colore di 300 matite, vi assicuro, non è cosa da poco. Se non ho fatto male i conti, credo di aver impiegato 7-8 ore. Anche perché c'è da dire che nella scatola le matite non sono messe in ordine con i loro numeri in ordine crescente, che di solito è così. No, sono tutte alla rinfusa. E quindi il tempo è stato non solo quello di fare la cartella colore, come si vede è bella, consistente, ce ne sono veramente tanti, ma proprio anche rimetterle in ordine. Quindi poi mi sono costruita, diciamo così, con queste etichette in modo tale anche da identificare bene i vassoi. E quindi li ho sistemati in ordine crescente e ogni vassoio ha almeno un intervallo di colori, di 30 colori, in modo tale che sia anche più facile il reperimento. Cosa faremo insieme oggi? Non riusciremo ovviamente a usarle tutte 30 anche perché altrimenti dovremmo anche cenare, dormire, mangiare mentre le vediamo perché sono veramente tante. No, quello che ho pensato di fare, siccome devo finire uno dei miei lavori Zentangle che sto portando avanti per questo periodo natalizio, vi faccio prima vedere gli ultimi due fatti, che così vedete intanto di cosa parliamo. Allora questo per esempio, il rosso, è una delle matite della Color. È un rosso carminio, come si vede molto bello. La mina è all'olio, quindi è molto coprente, non c'è praticamente neanche un pallino bianco. E come questa, anche questo, come si può vedere, sembra quasi un acrilico per quanto è coprente. Quello che invece vorrei fare oggi con voi e quindi ho pensato di farlo insieme a voi in compagnia, è colorare questi quattro simpatici Babbo Natale. E ho selezionato quattro colori, quattro rossi, quattro tonalità di rosso, in modo tale da dare anche una cromia un po' armonica, sempre sul rosso ovviamente, a questi cappelli di questi buffi Babbo Natale. Allora, partendo proprio da questi, questo è il vassoio dei rossi, da 1 a 30 il numero appunto che portano le matite, ho selezionato praticamente quattro rossi. Allora, uno è lo 012, poi ve li mostro all'opera. Uno è lo 012, arrivo subito. Allora, lo 012 è questo qua. Eccolo. Questo è lo 012. Poi ho pensato che sarebbe praticamente questo. 012 è un dark brownish red. Poi volevo prendere lo 019, che è uno scarlet. Quindi uno scarlet dovrebbe essere 019, 18, 19. Eccolo qua. Questo è lo scarlet, che sarebbe questo qua, questo. E poi uno 025, che sarebbe il cadmium, 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 o finalmente, red. Quindi 025, eccolo qua. E poi dobbiamo andare in profondità per andare a prendere l'ultimo, che è il bloody red. Eccolo qua, bloody red, che è il 241. Così nel mentre faremo anche una sorta di, come dire, excursus nei vassoi, nei dieci vassoi di questo magico box, di questa magica box. Quindi, cominciamo a togliere un po' di vassoi, così nel mentre vedete anche come sono stati organizzati. Qui ci sono tutti gialli, tutti blu, tutti verdi, verdi e un po' di viola. Qui c'è viola e marrone. Ok. Poi siamo ai grigi. e poi iniziano i colori metallici. Così vi faccio anche vedere i colori metallici, che sono molto belli. Questi e i fluorescenti. Tra l'altro, pensavo di fare un prossimo video proprio sui metallici e metterli a confronto con i derwent metallici, che sono belli anche quelli, ma secondo me anche questi non sono niente male. Ma ne parleremo nel prossimo video. Siamo arrivati. Eccola qua. Come si vede già è già stata usata parecchio, questo carminio red. Eccola. Metterli fuori non è così semplice. Eccolo qua. Come si vede è un po' più piccola delle altre, perché è già stata usata un bel po'. Allora, abbiamo le quattro matite. Adesso tolgo tutti questi vassoi e ci concentriamo sui nostri babbo natale. Togliamo anche la scatola. La cartella colore l'abbiamo già vista. Non ci dovrebbe servire più. E cominciamo quindi a colorare. Allora, tanto per vedere come sono, proviamo a metterli insieme qua su un foglio bianco, prima di andare poi a fare i cappelli dei babbo natale e vedere come funziona. Allora, lo 0,12 che è questo. Quindi 0,12. È un rosso molto scuro, come si può ben vedere. Si stende molto bene, come vedete. E ripassando sopra si ha un bel effetto coprente. Poi abbiamo uno 0,19 che è questo. Eccolo qua. È un rosso un po' più sul carminio questo qua. Però mi sembrava carino dare una nuance diversa di rosso ai cappelli dei quattro babbo natale. Ed infine, no infine no, abbiamo lo 0,25 che è quest'altro rosso, tipo di rosso, c'è più giallo qua. E' più sul rosso. L'altro, come dicevamo, più carminio. Quindi c'è un po' di viola in quello precedente. Ed infine abbiamo questo 241 che è praticamente il bloody red. Quindi è rosso puro, diciamo. Ok. Allora, io comincerei proprio a fare ogni cappello un colore diverso. Vediamo come stanno insieme. Inizio a lavorare e poi ci rivediamo alla fine per vedere com'è l'effetto cromatico finale, se vi piace oppure no. Nel mentre avrete modo di vedere come vengono utilizzate queste matite e che resa hanno. Ok? Ciao, ciao. Eccoci arrivati. Cosa ne dite? Vi piace? Era meglio in bianco e nero o è meglio con questi toni di rosso? Le matite, secondo me, sono molto valide, molto interessanti. Il fatto che abbiano tutti questi, tutte queste nuance, secondo me, dà un grande valore aggiunto a questo tipo di matite. E' molto facile stenderle, anzi è un piacere stenderle, quindi ve le consiglio caldamente. Io spero che il vi sia piaciuto, che anche le matite vi siano piaciute. Non è sponsorizzato il video, ci tengo a dirlo. E quindi se vi è piaciuto un pollice alzato, se me lo volete concedere e poi un'iscrizione al canale per non perdere i prossimi che sono già in programmazione. Grazie per essere stati con me fino adesso e alla prossima!